Fine dell'Ottocento, Giuseppina Cattani è la prima persona al mondo che riesce a isolare il bacillo del tetano. E questo getta le basi per la futura realizzazione della prima antitetanica, il vaccino che salvò la vita a centinaia di soldati durante la Prima Guerra Mondiale. Siamo a metà degli anni 50 del 1900, Rosalind Franklin è una giovane laureata in chimica, una cristallografa. Lei riesce a fotografare per la prima volta al mondo la doppia elica del DNA, gettando così le basi per un ragionamento oggettivo sul concetto dell'ereditarietà genetica. 1982, Istituto Pasteur di Parigi, Françoise Barret Sinoussi è una giovane virologa che per la prima volta al mondo dice che l'AIDS è portata dal virus dell'HIV, cambiando così radicalmente nella società il concetto della malattia, anche se ci pensiamo dal punto di vista psicologico. Fine degli anni 80, May Britt Moser è una giovane neuroscienziata norvegese, e lei comincia a studiare le reti neurali e scopre i neuroni di posizione. Questo dall'input per gli studi in merito ai primi GPS nel 2014, May Britt Moser riceve un premio Nobel per le sue ricerche. Rita Levi Montalcini diceva che se non fosse mai stata discriminata, probabilmente non sarebbe riuscita a vincere il premio Nobel. Ecco, questo ci fa capire di quante difficoltà e quanto si è stato irto di ostacoli il cammino delle donne nella scienza. Oggi rispetto a 100, a 50 anni fa, le cose sono decisamente migliorate, ma le donne che vogliono fare carriera scientifica, che in generale vogliono fare carriera ad alti livelli, sono sempre al di sotto del soffitto di cristallo, che è questo grosso ostacolo persistente, anche se invisibile, che le pone in una situazione di inferiorità. E allora io dico che tantissime possono essere le discipline, ma voglio invitare le ragazze oggi, e non solo oggi in realtà, ma tutti i giorni dell'anno, a investire con entusiasmo e compassione nella realizzazione dei desideri in ambito di lavoro e di possibilità di avanzamento di carriera, di studio del settore STEM, che per le donne continua a essere un luogo sempre poco frequentato o anche se frequentato il riconoscimento stenta spesso ad avvenire. Allora tante possono essere le discipline, ma uno solo il coraggio con cui le si può affrontare. In bocca al lupo ragazze, coraggio!